Avrei preferito che ci fosse il sole e più confusione, più rumore, perché il silenzio poco ha da spartire con quel che devo... Comunque, ora abbiamo il professore Rinaldi che per le conclusioni, per un intervento di conclusivo. Io da tedesca vorrei modestamente fare un piccolo commento su questa tendenza molto anti-ero in questo forum, se me lo posso permettere, che c'è sempre comunque da pensare su questo, magari lei è molto più bravo di tenucidarci, cosa sarebbe senza ero, cosa verrebbe dopo l'ero? E' veramente l'inflazione all'infinito, la ricetta per salvare l'Italia, oppure ci sono anche dei modi di gestire l'ero e l'eropa, diversi magari di questo qui che viviamo, mantenendolo. Proviamo. No, 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 io non voglio dire altro, io volevo... Ecco qua, salve a tutti, grazie, non scappate, non tengo poco. Allora, io sono un europeista convinto, convintissimo, sono ovviamente d'accordo con quello che lo dice, ma chiaramente non mi riconosco di questa Europa perché non è la mia Europa, non era l'Europa che c'era stata spettata, io per lo meno ho capito anche, avevo capito altre cose, non so se voi avevate capito altre cose. Fra l'altro io sono uno dei quattro figli italiani del movimento, del manifesto, perché non è un movimento, attenzione, perché non ha nessuna corrispondenza politica, del manifesto di solidarietà europea, la cui finalità è quella del ritorno di tutti quanti i paesi dell'eurozona, euro dotati, alle proprie valute, ma in maniera comportata, la persona non scomposta, ci dobbiamo mettere d'accordo. Scusatemi tanto, quante volte noi vediamo persone che litigano nell'ambito della famiglia, tra moglie e marito, poi si separano, e poi in quarta caso scoppia un'amicizia, sicuramente più proficua rispetto al momento in cui erano invece sposati, molto probabilmente può avvenire questo. Io ho scritto delle cose, poi naturalmente gli interventi dei relatori mi hanno scombussolato, quindi cercherò di rimettere insieme tutto il discorso che vorrei fare. Innanzitutto voglio fare i complimenti alle poche parole, ma molto incisive, che ha detto Marco Balestra, perché è stato molto incisivo, ma non lo dico per plageria, perché lo penso veramente, però voglio solo dire una cosa, lui ha detto l'ultima frase, siamo finiti fra i maiali, no signori, credono gli altri che siamo finiti fra i maiali, ma noi non ci siamo finiti fra i maiali, e attenzione, non ci siamo, non ci sentiamo, e perché questo avviene? Perché cerchiamo di dare delle risposte anche tecniche, perché è vero, le analisi che hanno fatto loro sono non condivisibili, condivisibilissime al cubo, cancio il cuore, sentire il sindaco dell'Aquila pronunciare queste parole, mi dispiace, mi vergogno da italiano, non era, cioè mi vergogno che addirittura ci sia un sindaco che debba venire qui a dire delle cose di un'oppietà che gli ha chiesto scusa da italiano, perché è assurdo quello che dice, non doveva avvenire, ma perché avvenuto questo? Perché noi abbiamo una moneta unica? Ma vediamo un po', ma era necessario per riequilibrare l'equilibrio che si era rotto dopo la caduta dell'impero sovietico dovevamo ricreare un altro equilibrio ed era necessaria questa moneta unica per coagulare, perché diciamo la verità, tutti gli europei sono europeisti, tutti i cittadini, ma guardate bene che purtroppo l'euro è l'unico elemento che li divide, questa è la cosa incredibile, cioè noi senza questa benedetta moneta, che non è una moneta, è un accordo di cambi fissi ragazzi, noi nei confronti della Germania siamo da 14 anni a 989,999, poi se lo chiamiamo a euro è una questione così di convenzione, per esempio perché noi adesso ci troviamo nelle condizioni tragiche che i comuni, le amministrazioni perifiche, chiamiamoli così, non è dispregiativo ma solo tecnico per definire, rispetto a cui la centrale si trovano adesso peggio di qualche anno fa, perché adesso i vincoli esterni, che prima erano solo da pannaggio dallo Stato centrale, cioè del governo italiano che aveva preso questi impegni, li ha trasferiti anche alle regioni, anche alle province e anche ai comuni, cioè praticamente loro si trovano nelle condizioni di sottostare al famoso patto di stabilità. La prima fregatura, cosa la dico subito, che innanzitutto si chiama patto di stabilità e crescita, avete notato che ormai nessuno dice patto di stabilità e crescita, se no parte la parolaccia perché dove è questa crescita? Ma perché avviene questo? Perché noi per poter far parte del club dell'euro dobbiamo sottostare a certe regole, queste regole che purtroppo non sono state forgiate per la nostra economia, ma per supportare un modello economico che è diverso da quello nostro, perché per poter far parte del club dell'euro, cioè per poter avere questa moneta comune, noi dobbiamo sottostare a certe regole. Adesso se la devono sbrigare anche i comuni, cioè prendete ora voi questa bella patata pollenta, prima vi arrivavate con lo Stato, lo Stato apriva le borse e diceva vabbè ci penso io poi me la vedo io con gli altri, invece adesso pure anche voi dovete dar conto a questo patto di stabilità, ma lo sapete perché? Perché si è instaurato un meccanismo automatico delle regole, non c'è più la politica che riesce a dare quell'ammortizzatore, se ci fosse dietro una scelta politica dietro a queste regole, si potrebbe parlare, si potrebbe mediare, si potrebbe riuscire ad arrivare delle cose logiche, come quelle che ci hanno detto i sindaci, attualmente le regole per stare dietro a questa moneta comune sono automatiche, si è creata una specie di questo famoso mostro bio giuridico economico per il quale va avanti con le gambe da sola, da sola non c'è, non esiste la possibilità di interferire, perché guardate che in tutte le crisi che ci sono state, se ci fosse stata la politica con un ruolo determinante, l'avrebbe sblocchiato, ma iniziare anche dalla crisi della Grecia, se ci fosse stato quel signore che si chiama Oli Ren, che invece di eseguire alla lettera quello che ci sta scritto nei pezzetti di carta, avesse affidato al ruolo politico, l'avrebbero risolto nel giro di una settimana, invece questo non è possibile, noi dobbiamo recuperare questo rapporto politico nella gestione, ma sappiamo che non è possibile, anche perché scusate, qui lo dico perché non devo dar conto come al solito a nessuno, non abbiamo bisogno di gente che si accredita in Europa di avere le palle d'acciaio, noi ci accontenteremo che almeno ce ne fosse qualcuno che le abbia solamente, questo è il problema, qualcuno che c'è, c'è in Italia, insomma mi auguro almeno, questo è il vero problema, anche perché se ci fosse stato qualcuno che le aveva, per il calcolo delle probabilità, esatto, almeno quello, uno, due, tre, no magari uno mi darebbe anche fastidio se ce n'è, forse soltanto uno, ma diciamo un certo numero mi farebbe piacere, anche perché in genere quando poi uno si affida uno solo poi sappiamo che cosa succede, non vogliamo, forse qualche dono, per esempio ce n'è una che ce l'ha, l'abbiamo visto, esatto, esatto, ma guardate io ho dichiarato pubblicamente, se fosse stato tedesco mi sarei svegliato alle 5 della mattina per votare anche la Merkel, perché lei ha fatto gli interessi a Germania, siamo noi che non li facciamo, ma addirittura se ci fosse qualcuno con quegli attributi, non lo dico di più, se no poi dopo, scusa, ma quegli italiani come parlano, ma ci siamo un po' unciaulati, si sarebbe anche accorto qualcuno che in Italia questo famoso 3% non esiste, lo sapete? Allora lo dico io, a noi ci hanno chiuso a maggio la procedura di inflazione facendo i salti mortali, adesso ancora stiamo sulla graticola per non scorare quel 0-1, il giorno dopo a maggio hanno autorizzato sia la Francia che la Spagna di scorare, la Francia sta ancora a 4 arrotti e la Spagna a 7, ma siamo figli di odio minore noi, capito? O facciamo parte tutti quanti dalla stessa Europa? Quale Europa? Perché a me piange il cuore nel vedere questa Europa che non è Europa, ma è soltanto un'altra cosa? E poi vi dico anche questo, perché il 3% non esiste? Lo dico subito, il 3% non esiste nella fatti specie, perché nessuno si va a leggere realmente i trattati come sono, perché se andassero veramente a leggersi i trattati veramente, si accorgerebbero che l'articolo 104 di Maastricht che è stato poi rivisto, tradotto e modificato dall'articolo 126 di Lisbona, dice che questo 3% può essere tranquillamente e legittimamente superato se ci sono degli impedimenti e gli impedimenti ce ne stanno, a chilometri ce ne stanno, tant'è vero che i francesi e gli spagnoli gliel'hanno concessi. Per esempio, io dico più impedimento dell'Aquila, che devono succedere? La bomba atomica? Non lo so, gliela buttiamo così quella rifacciamo, magari mandiamo via prima la gente, magari. Poi dico questo, quindi ci sono tutti gli elementi per poter avere ragione, ma guardate non cambierà niente, non eludetevi, chi mandiamo a Bruxelles a trattare sui trattati? Chi mandiamo, signor? Abbiamo qualcuno? Fino ad adesso abbiamo gente che era disponibile solo a morire per Maastricht? O c'è qualcun altro in grado di dare? Purtroppo ci siamo resi conto che c'è gente che parava a fare solo gli inchini a Berlino e questo è quello che mi dispiace, nessuno sa portare avanti le istanze degli italiani. Allora, c'è della gente, scusatemi se te lo dico, perché a me si schiace, io sono un grandissimo ammiratore della Germania, attenzione, io adoro la Germania, mia moglie è tedesca, io ho i figli tedeschi, attenzione, ma io contesto fino alla fine della mia vita, della mia voce con gola, il modello economico imposto dalla Germania, perché è un modello fallimentare, questo deve essere chiaro, perché non è possibile se nei 200 passastati che compongono il globo terraqueo, perché sono più di 200, soltanto 17 devono adottare questo sistema, tutti gli altri sono credini, si adottano altri sistemi, allora dico, ma è possibile che il fatto di dover perseguire la riduzione dei rispettivi surplus stock di debito pubblico, oltre questa soglia, che poi non abbiamo capito da dove l'hanno preso, 60%, perché io non so da quale studio è uscito fuori, non so 3%, perché è un numero bello, noi spogliamo la verità, ci sono testimonianze, sono uscite fuori, però attenzione, perché riprendiamo oltre alla battuta, questo modello economico che prevede la stabilità dei prezzi, perché questo è il vero problema, con l'ossessione di questa benedizione, noi ci abbiamo campato, noi ci abbiamo comprato casa per noi, per i voti, per i figli, noi siamo andati avanti, c'è la curva di Philips che ce lo dice che l'inflazione ci vuole, perché quando avevamo l'inflazione alta, avevamo la disoccupazione bassa, e io vi garantisco, mi faccio tagliare la testa, che preferisco mille, ma mille volte l'inflazione più alta, ma la disoccupazione più bassa, perché quando non c'è, non lavora, non lavora, non lavora, non va bene, non è l'Europa che c'era stata, ma noi abbiamo una banca centrale, signori, che mi fanno sorridere quelli che dicono, dovrebbe essere come la Fed, ma lo volete capire che la banca centrale non è una banca centrale, è solo il guardiano dell'inflazione, punto e basta, e non fa nient'altro che questo, lo volete capire? Purtroppo questo tipo di Europa non si può riformare in questa maniera, è stata costruita affinché convergesse verso certe cose, oggi, signori, perché la Germania si trova in queste condizioni? Perché c'ha l'Euro, praticamente il marco, perché è un marco, che è plasmato secondo le proprie esigenze, oggi sarà Germania, e qui rispondo attorno, se oggi avesse il dolce marca ancora, quanto starebbe, quanto si rapporterebbe nei confronti del dollaro? A 1,35? Non credo proprio, starebbe a 1,60? A 1,70? E crollerebbe, perché a quel punto, che cosa succederebbe? Non avrebbe più il surplus come ce l'ha adesso, ce l'avremmo noi quel surplus, ce l'avremmo, maltenzione, e ce l'avremmo, l'unica maniera, e qui porto l'acqua al mio mulino, e qui concludo, è in maniera molto semplice, purtroppo, e ritornerò alla nostra sovranità, solo ed esclusivamente a questa maniera, guardate, che tutti stanno a guardare la Costituzione, e lo ripeto per l'ennesima volta, all'articolo 11 della Costituzione, ci vinco la cessione di sovranità se non ha pari condizioni, e noi ci siamo, scusatemi, perennemente calati le braghe su questo, e bisogno dare anche da economista una considerazione di carattere squisitamente politica, però è il mio dovere farlo, attenzione, queste politiche per combattere l'inflazione sappiamo a cosa portano, attenzione, soprattutto i sistemi che stanno portando deflazione, e sappiamo cosa è avvenuto negli anni 30 per poter curare in maniera sbagliata l'inflazione, hanno impestato di deflazione e sono usciti fuori dei signori che hanno combinato dei grossi macelli, guardate in Grecia cosa sta succedendo, si sta creando esattamente la stessa situazione, poi non ci lamentiamo se poi escono fuori questi partiti estremistici, perché purtroppo le ricette sono le stesse e purtroppo generano sempre questi problemi, questo è il vero problema che stiamo esaminando, non è una battuta, esiste l'articolo 139, ma non della Costituzione, del Trattato di Lisbona, forse hai più sfuggito, è un caso, è un destino? Non lo so, vedremo, sapete cosa dice l'articolo 139? Lì c'è la nostra salvezza, indica che in Europa possono convivere stati con deroga e senza deroga, io andrò a Bruxelles il 3 di dicembre, andrò a parlare e chiederò a una mia teoria che spero che la conviderete e che noi chiediamo lo status di paese con deroga, è possibile convivere in Europa, ma con la nostra sovranità che ci fa riappropriare non solo della nostra moneta, ma soprattutto della politica per poterla gestire, questo è il vero problema. Grazie, 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 grazie. 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 Permetta di chiamarmi eroi, l'ho fatto per motivi solamente miei, sono troppo diverso dai vostri eroi, l'ho fatto per me, non per voi. Grazie. Grazie. Grazie.